Poi c'è un altro numero che deve migliorare la Roma, impiega quasi il doppio delle occasioni di altre squadre per fare lo stesso numero di gol. Ne fa tantissime occasioni ma segna di meno. Daniele è anche un fatto di scelta sotto porta nei 16 metri? Beh è evidente che sia anche un fatto di scelta, si crea tanto e tante volte i giocatori che poi sbagliano sotto porta se le creano proprio da sole. Abbiamo visto oggi Zeko che ha fatto una partita incredibile, anche Salah, azioni che nessun altro giocatore si creerebbe, si procurerebbe perché insomma Salah ha preso tipo 10 metri a Murillo, Zeko ha fatto una finta di entrare, poi dopo ci manca un po' di quel killeristic come direte voi in gergo che magari ti fa... Noi no, noi sta cosa la diciamo, però va bene così. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 v se non ci vediamo